Con la stessa fede dei nostri padri invochiamo dal Signore per l'intercessione potente ed efficace della Beata Vergine Maria, di San Biagio nostro padrono e degli altri santi nostri intercessioni. La benedizione sulla nostra comunità, sulla nostra Chiesa di Gesana e sul mondo intero. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Regina del Carmelo, prega per noi. Regina adorata, prega per noi. San Biagio, prega per noi. San Nicola, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro, Santi Pietro e Paolo, prega per noi. San Giovanni Evangelista, prega per noi. San Francesco di Paolo, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Rocco, prega per noi. San Rocco, prega per noi. Da ogni male. San Rocco, prega per noi. 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 Salvarci Signore, dalla violenza, salvarci Signore, dall'ingiustizia, salvarci Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltarci Signore. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Dio onnipotente ed eterno, che guardi la terra e fai cremare la sua faccia, per l'intercessione potente ed efficace di San Biagio, nostro protettore, abbi pietà di coloro che sono nel pericolo. Si propizia a quanti supplicano, affinché, dopo aver sperimentato l'ira della terra sconvolta dalle fondamenta, possiamo con tutti sentire la tua clemenza. Non respingere, Dio onnipotente, il tuo popolo, che ti chiama nel dolore, ma per la gloria del tuo nome e per i meriti del tuo santo vescovo e martire, soccorri placato e tripolati. La tua ineffabile misericordia, o Signore, mostra a noi clemente, affinché, confessando i nostri peccati, siamo liberati dalle pene che per essi meritiamo. Concedi a noi i tuoi fedeli, ti chiediamo, Signore Dio, di vedere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, liberaci dai mali che ora ci rottristano e guidaci alla gioia senza fine. La nostra tripolazione, ascolta propizio e rimuovi l'indignazione della tua ira che giustamente veritiamo per le nostre colpe. Dio è nostro rifugio e nostra forza, ascolta le vie preghiere della tua Chiesa. Tuo autore della stessa pietà, concedi a noi, che fedelmente chiediamo, di conseguire efficacemente la salvezza eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione del glorioso San Viaggio, vi benedico a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Crediamo e grazie a Dio. 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 Grazie a Dio.